Dopo la manovra da un milione di euro messa in campo nel mese di giugno, la giunta comunale di Fano ne ha approvata una seconda per sostenere le famiglie e i settori economici più colpiti dall'emergenza sanitaria. L'operazione comprende 100.000 euro per le utenze domestiche e 300.000 per le attività produttive. Siamo riusciti comunque a poter utilizzare una parte del fondo funzioni fondamentali a disposizione di questa operazione e abbiamo individuato 400.000 euro per ripetere un'operazione di sostegno alla tassazione. Quindi andiamo a mettere in campo un sostegno sotto forma di contributo, quindi voglio sottolineare in modo abbastanza importante che sarà necessario sia per le attività produttive che le utenze domestiche fare istanza, fare apposita domanda. Le domande sarà possibile farle dalla settimana prossima a seguito del Consiglio Comunale di questa settimana che dovrà, se vorrà naturalmente, approvare questa proposta della giunta e da quel punto in poi sarà possibile entro il 10 di dicembre fare domande per richiedere questi contributi alla tassazione. Infatti a differenza dell'ultima volta non verranno applicati direttamente in bolletta, invece in accordo con i sindacati sono rimasti gli stessi i criteri in base ai quali vengono stabilite le famiglie beneficiarie. Quali sono le fasce previste? Le fasce previste di Isee sono la prima fascia fino a 8.265 euro e il contributo è del 100% relativo all'importo dovuto per l'Atari nell'anno 2021. Invece per la seconda fascia da 8.265 a 13.000 euro il contributo è del 60% dell'importo dovuto, chiaramente per coloro che sono in regola con i versamenti tari ed è una misura importante perché va a coprire un bisogno che registriamo quotidianamente anche noi come servizi sociali che è appunto quello del pagamento delle utenze. è una spesa chiaramente necessaria per molte famiglie bisognose e che copre appunto una parte che invece non è coperta con altre misure come quella di buoni spesa che invece copre le spese di prima necessità, i generi alimentari oppure quella sugli affitti che abbiamo già coperto con un bando a settembre. E quindi è un modo per dimostrare davvero di non lasciare le famiglie da sole e nessuno indietro. Invece per le attività economiche si fa riferimento al fatturato medio mensile del 2020 che rispetto al 2019 deve aver subito un calo pari o superiore al 20%. Secondo una prima stima sono circa 900 quelle a 20 diritto, di queste 400 sono attività commerciali. Il contributo infine sarà pari al totale dei tributi locali, i mutari, i cipi e tosap fino ad un massimo di 2000 euro per ogni singolo soggetto economico. In base a quali criteri sono state stabilite le categorie? Abbiamo voluto dare un aiuto importante e caratterizzarlo a quelle categorie che stanno soffrendo di più. Per fare questo abbiamo verificato anche gli open data della Camera di Commercio e quindi abbiamo deciso di andare a ristorare in questa partita i negozi di abbigliamento, le calzature, le librerie, le cartolerie, le ferramenta, i cinematografi e i teatri, le palestre e le piscine che sono state chiuse fino a qualche giorno fa, le agenzie di viaggi che ancora non lavorano e quindi hanno bisogno di particolare supporto, i banchi di mercato dei beni durevoli, quindi coloro che hanno abbigliamento e attività comunque durevoli, ovviamente quelli dell'ortofrutta hanno lavorato nel periodo anche di zona rossa perché lì era loro permesso, poi le piccole attività artigianali, quindi le piccole botteghe come i fabbri, gli elettricisti oppure coloro che fanno produzione di beni specifici e poi anche i negozi particolari quali filateria, tessuti e tende, cappelli ed ombrelli, quindi negozi specifici, sappiamo che queste attività sono quelle che in questo momento stanno soffrendo di più, abbiamo cercato di aiutare anche con attività indirette come è stato fa non plein air, con i tavoli d'aperto, tutto il mondo del turismo, della ristorazione, oggi ci sembrava importante incidere e aiutare queste attività economiche ed è quello che stiamo facendo, ovviamente nella speranza che il Consiglio Comunale voglia approvare questa delibera che abbiamo voluto portare.